Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Alessandro Del Piero, ex fuoriclasse e vero numero 10 della Juventus, è stato da poco sconvolto da un terribile lutto. E' infatti venuto a mancare un uomo molto importante nella sua vita, che è stato, fra le altre cose, il suo insegnante di ginnastica ai tempi della scuola. Stiamo parlando di Umberto Prestia, scomparso a 84 anni. E' stato lui ad insegnargli a calciare col piede sinistro. L'uomo era particolarmente appassionato di pallone e insegnava le basi del calcio ai suoi alunni. Certo mai avrebbe immaginato che fra di essi avrebbe un giorno trovato colui che sarebbe diventato un autentico campione. E proprio Del Piero, attraverso Instagram, ha voluto fare un ultimo saluto a Umberto e scrive. Ieri c'è stato l'ultimo saluto al professor Prestia, il mio primo allenatore ai tempi dei pulcini del San Vendemiano. Di lui conserverò sempre un bellissimo ricordo. Ci ha insegnato che il calcio e lo sport in generale deve essere prima di tutto divertimento. Attraverso i suoi insegnamenti abbiamo conosciuto i valori della vita. Questo è sempre stato il suo grande obiettivo. Termina così il messaggio di addio scritto da Alessandro Del Piero. L'allenatore Umberto Prestia è venuto a mancare nella giornata di lunedì 3 gennaio 2022, all'età di 84 anni. Al momento della morte si trovava in una casa di riposo. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.